Svolgerete un ruolo da volontario che vi fa onore e che esalta il vostro senso civico, così il sindaco di Areano Erpino, Antonio Mainiero, nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di ispettore ausiliario di vigilanza ambientale ed operatore di protezione civile, svoltasi nella sala consigliare Giovanni Grasso, gremita per l'occasione. Grandissima infatti la partecipazione da parte dei corsisti, neo ispettori ambientali e anche da parte del pubblico, a consegnare materialmente gli oltre 100 attestati, due rappresentanti dell'Associazione Guardi Ambientali Centro Italia, Comando Regione Campania. In apertura dell'incontro l'assessore all'ambiente Manfredi D'Amato ha espresso soddisfazione per la massiccia partecipazione al corso e ha anche voluto rispondere a qualche polemica, sottolineando di aver sempre precisato che si trattava di un corso gratuito e per volontari, senza creare alcuna aspettativa di lavoro. D'Amato ha anche precisato che presto sarà portato in Consiglio Comunale il regolamento per l'istituzione del corpo di ispettore ausiliario di vigilanza ambientale, che andrà a inserirsi nell'ambito del progetto di prossima partenza del porta a porta a spinto, con un ruolo appunto di vigilanza sul territorio.